È stato presentato in comune l'evento che celebra i 25 anni di protezione civile a Pordenone, che avrà luogo in città domenica 11 giugno. Una tappa importante per gli oltre 80 uomini e donne del gruppo cittadino che dal 1998 svolgono una preziosa attività di volontariato per la salvaguardia e la sicurezza della cittadinanza e del nostro territorio. È una festa che ci consentirà, parlo delle istituzioni, da quelle del governo fino alla regione e poi il comune, di dire una parola che può sembrare scontata ma non lo è, è la parola grazie. Le istituzioni rappresentano l'intera comunità, la comunità deve essere riconoscente nei confronti di questi volontari. 25 anni di impegno, 25 anni di grande professionalità, di continuo apprendimento, di formazione, 25 anni di dedizione e di presenza nei luoghi colpiti dalle calamità ma soprattutto di grande prevenzione, quindi cercare di evitare i rischi. 25 anni di generosità e di solidarietà nei confronti della comunità. È anche un appello, un messaggio, soprattutto ai più giovani, di dare una mano, di aiutarci perché l'intervento dell'operazione civile è sì scontato quando succede qualcosa, ma in realtà servono anche nuove leve. Il comune di Pornone è orgoglioso perché ha alle proprie disponibilità un gruppo numeroso, più di 80 persone, che svolge un'attività impagabile, migliaia di ore, lavoro, ripeto, totalmente volontari. È un bene prezioso di cui essere orgoglioso e a cui dare tutta la nostra riconoscenza. E' giusto festeggiarli e invito veramente tutta la cittadinanza perché per dire grazie, questa è un'occasione proprio per dire grazie a tutti i volontari che non sono con noi solo nell'emergenza in cui magari li vediamo di più, ma sono con noi nella quotidianità. Oggi è stato detto che questi volontari dedicano quasi un mese della loro vita a noi, al presidio del territorio, alla cura del territorio, a trasmettere conoscenza. Sono tra le squadre sicuramente più formate d'Italia, le ho viste in azione e ho anche compreso, vedendo l'inazione, che il grazie di chi è in difficoltà vale qualunque sacrificio. 25 anni di protezione civile, questa grande festa, da cosa è nata? E' nata un po' dall'esigenza di rivedere un po' tutti i colleghi e dare un segnale un po' alla cittadinanza, no? Per dire il gruppo di protezione civile c'è, non siamo solo noi, ma tutti i cittadini devono partecipare alla protezione civile perché ognuno può dare sicuramente il suo. E allora anche la scelta di sfilare in centro città è proprio questa, insomma. La cerimonia avrà inizio in Largo San Giorgio alle 8 e mezza con alza bandiere ed esecuzione del lino nazionale. Seguirà la sfilata lungo i due corsi fino al Duomo di San Marco dove sarà celebrata la messa. Tutti sono invitati all'evento. Per info sul programma, comune.pordenone.it slash calendario